Per il secondo turno consecutivo in Cattolica San Marino affronta una Mollisana, questa volta dopo la trasferta di Agnone i giallorossi ricevono in campo basso al Calvi, sfida tra due formazioni distanziate in classifica di ben 11 lunghezze, sfida che prosegue anche sugli spalti da una parte e dall'altra, l'inizio di marca ospite, l'indecisione di Aglietti in uscita favorisce l'allungo di Musetti, il quale da buon rapinatore d'aria ruba palla, tocca per Cogliatti che porta sguarnita, porta avanti il lupo, 1-0 per il campo basso, il Cattolica risponde da punizione con Merlonghi, sfera alta sopra la porta difesa da Natale, ancora giallorossi i protagonisti dal traversone proveniente da sinistra e colpo di test di Merlonghi si spegne a alto, lo scatenato Merlonghi prova la conclusione della distanza ma nulla da fare, il lupo esce fuori dopo qualche minuto con questa conclusione strozzata di menna che si perde a lato, squadra riposo sullo 0-1, nella ripresa la punizione di Vanzana termina tra i guantoni di Aglietti, per trovare il lupo nuovamente protagonista occorre aspettare il solito asse vincenti in occasione del gol, Musetti appoggia per Cogliatti quale chiama l'intervento in corner, Aglietti, da punizione Candelori questa volta chiama invece all'Euro goal Musetti cui colpo di tacco diviene comoda presa per Aglietti, il campo basso concede terreno, non riesce a chiudere il match e giallorossi fanno le prove per i gol, il colpo di testa in questo caso risulta una facile chiamata per Natale, ma l'estremo ospite dovrà rendersi al minuto 80 quando Rizzitelli, figlio d'arte, tocca di tacco il cross proveniente dalla destra, ristabilendo la parità in campo. Grigioia meritata per il club giallorosso che a piccoli passi muove la classifica per il campo basso, invece ancora un invio verso i piani alti della classifica nell'anno del centenario.